buongiorno vorrei parlare con il direttore generale del cinema audiovisivo dottor nicola borrelli per favore pronto salve senta siccome l'invasione della francia che abbiamo iniziato quasi tre anni fa sta andando male non è che vi avanza qualcosa cinecittà da prestarci sì avevamo giusto qualche m13 che abbiamo utilizzato per il film e la la main di qualche anno fa più due mezzi sempre del della seconda guerra mondiale che ci avanzavano al museo di montecchio e poi se vi interessa abbiamo anche il simulacro del sommergibile cappellini che abbiamo usato per il film comandante quindi però occhio perché non spara e non si immerge quindi può servirvi giusto per fare un po di scena se vi serve salve amiche e amici oggi iniziamo con le comiche ma come si dice la realtà supera sempre la finzione e infatti chi è che supera sempre la finzione beh mosca e qui abbiamo l'equivalente del nostro dottor stimato borrelli equivalente per il cinema a mosca per le produzione cinematografiche che in questo comunicato in questo diciamo scambio di battute con putin ci racconta che praticamente ha fatto questo dice quest'anno abbiamo fornito un sostegno economico benefico di qualcosa come 8 milioni di rubli più 6 quindi sta parlando di una cifra intorno alle 120 mila euro ok spiccioli spiccioli per una produzione cinematografica più dice abbiamo fornito 28 carri armati t 55 8 carri armati p t 76 8 trattori e che avevamo immagazzinato nella base tecnico militare quando ho saputo che ce n'era bisogno ho contattato il ministro della difesa e loro hanno preso questi veicoli dice quindi questi sono i nostri risultati e putin dice siamo orgogliosi del mosfilm siamo orgogliosi di cinecittà l'equivalente di cinecittà per mosca dice putin e il cio dice spassiva quindi sì questo è quello che è successo in poche parole le produzioni cinematografiche moscovite hanno fornito questi mezzi i pt 76 e il t 55 che avevano in dotazione poi fra l'altro questa questo specie di studios per le produzioni cinematografiche hanno in realtà anche altri mezzi che poi sono stati anche camuffati per apparire come mezzi occidentali perché insomma se devi realizzare dei film di guerra devi avere anche le controparti in ogni caso questa fornitura parla di questi mezzi e si sembra sembra un fatto comico ma in realtà è vero ne parlano anche altri oggi insomma è una notizia riportata anche da da altre fonti quindi di cosa stiamo parlando beh stiamo parlando di mezzi che circolavano a partire dagli anni 50 ve li mostro dove ci sono anche le caratteristiche questo è il bmp 1 in servizio dal 66 1966 prodotto fino a 1983 mezzo che vabbè poi stato anche aggiornato al bmp 2 degli anni 80 e il bmp 3 del 1987 questa è la versione più moderna ma in realtà in ucraina se si vedono soprattutto bmp 1 e bmp 2 poi il responsabile per le produzioni cinematografiche ha parlato dove sta del pt 76 dove sta ve lo mostro è un mezzo eccolo qui è un mezzo prodotto dal 1951 al 1967 quindi non è più in produzione è questo ed è un mezzo anfibio anche se onestamente io non so quanto mi fiderei a farlo navigare probabilmente ecco il simulacro del sommergibile cappellini è 10.000 volte più sicuro di un mezzo del genere in acqua per una velocità strabiliante di 44 km orari in acqua 10 vabbè ammesso che possa farcela è un'autonomia dai 180 ai 260 km armato con un cannone da 76 mm è una mitragliatrice coassiale da 7 e 62 non è un mezzo corazzato nel senso un mezzo molto leggero poi ha parlato del t 55 che vabbè ormai è diventata la superstar della guerra in ucraina nel senso che si attira sempre gli occhi strabiliati degli analisti occidentali che si chiedono perché è un mezzo che è stato prodotto a partire dal 1958 e si del 1958 un pezzo da museo letteralmente armato con un cannone da 100 mm una mitragliatrice coassiale da 7 e 62 ed eventualmente una mitragliatrice in torretta antiaerea 100 mm per un carro leggero insomma abbastanza considerato un carro armato tutti gli effetti però 100 mm insomma un t 90 per intenderci è già un mostro confronto che ha una dove sta ha già un cannone da 125 mm ok quindi un po più grosso quindi questi sono i mezzi utilizzati al museo e che sono stati forniti all'operazione militare speciale nel frattempo se non si fanno problemi a trasmettere in televisione una cosa del genere che insomma è un messaggio piuttosto esplicito che sono accorti accorto di mezzi ritorno sulla pagina eccola è un messaggio molto esplicito voglio dire stai dichiarando apertamente che sei accorto di mezzi per la tua invasione nel frattempo mosca si preoccupa anche di revisionismo storico e di non far più raccontare certe storie che riguardavano per esempio il gulag questa notizia infatti annuncia la chiusura del museo dei gulag a mosca insomma la giustificazione è stata però motivi di ordine pubblico e sicurezza antincendio ma avviene come dice l'articolo nel contesto di un'intensa campagna condotta dal cremlino contro la società civile indipendente e contro quanti mettono in discussione l'interpretazione della storia da parte dello stato quindi cari moscoviti benvenuti nel 1984 esattamente se non bastasse questo putin fra l'altro annuncia ulteriori tagli ai risarcimento per i feriti di guerra ok qui stiamo parlando di qualcosa di assurdo ha diviso in tre categorie la classe le classi di invalidi di guerra o di feriti ferita grave si intende un risarcimento di 3 milioni di rubri che si parla di qualcosa come 29 mila euro per una ferita lieve di un milione di rubri di circa 10 mila euro per altre ferite minori 100 mila rubli stiamo parlando di 960 euro secondo l'agenzia di stampa statale russa tas fra l'altro ecco poi ci sono anche altri cambi nel senso per sopperire alla mancanza cronica di personale hanno aumentato le tariffe per il reclutamento questo perché appunto solo nel mese di ottobre 40 41 mila 980 morti e feriti è un dato storico ormai è un record storico quindi insomma invece di ordinare poi qui dice invece di ordinare una nuova ondata di coscrizione obbligatoria putin ha ordinato di aumentare il bonus di arruolamento per le nuove regute militari destinati a prestare servizio in ucraina a 400 mila rubli quindi 4600 dollari si sta parlando in questo articolo raddoppiando di fatto il pagamento forfettario di 195 mila rubli che c'era prima di 2260 dollari inizialmente promesso alle reclute nel settembre 2022 fra l'altro poi anche qui ci sono altri questo fra l'altro il governatore dell'oblast di belgorod ha annunciato il 7 ottobre che ai residenti della regione verrà corrisposta alla cifra record di 3 milioni di rubli circa 31 mila dollari tramite un bonus una tantum per l'arruolamento nell'esercito quindi sì questo è promettono soldi sapendo che tanto solo una piccolissima parte dei soldi promessi verranno poi incassati se il ratio di perdite è questo insomma quindi sì la situazione è questa e questi sono gli stratagemmi per cercare di non finire arrostiti precocemente a causa di droni artiglieria invece per le mine c'è poco da fare per un mezzo del genere veramente poco e purtroppo non posso mostrarvi le immagini ma è pieno strapieno di video che documentano la triste fine che fanno questi mezzi con tutto il carico umano che trasportano passiamo avanti e facciamo un po di fact checking come si dice verifica delle fonti perché da qualche giorno questo fra l'altro è anche correlato al futuro insediamento di trump come sta cambiando anche la narrazione al fatto che i russi stanno ottenendo risultati sul campo però in molti articoli si parla dell'eventualità che chi possa eventualmente dotarsi di una bomba nucleare o di ordigni nucleari sporchi nella categoria appunto di a basso potenza di basso potenziale tipo le bombe sganciate sul giappone ora in realtà questa notizia o queste notizie correlate che circolano non trovano nessuna conferma e infatti il kiev post nega completamente qualsiasi rapporto che fe che afferma che kiev potesse possa sviluppare armi nucleari e infatti fra l'altro nel fact checking condotto anche da jane smart non c'è nessun riferimento nelle dichiarazioni da parte di kiev circa uno sviluppo del genere soprattutto in virtù del fatto che kiev ha completamente sottoscritto e firmato un accordo per la non diffusione delle armi nucleari e fra l'altro si era ventilata questa idea quando fu firmato il trattato con la russia nel 1992 ma era solo un'idea che si era ventilata per fare in modo che kiev non restasse completamente sguarnita all'epoca ma poi la cosa finì lì non ebbe ulteriori sviluppi quindi questo è non ci sono nessuna non c'è nessuna conferma di queste notizie tutto questo avviene mentre siamo al 90 99 95esimo giorno della invasione dal momento dell'invasione della russia ora parliamo di aggiornamenti dal fronte perché nei giorni scorsi avevo appunto suggerito o proposto almeno alcune fonti che parlavano di una possibile offensiva russa nella regione di zaporizia e tutto questo viene riportato anche nel kiev post che dice secondo alcuni analisti militari ucraini ritengono probabile la una una offensiva anche nell'area di zaporizia lo vediamo qui qui a sud secondo analisti militari ucraini i russi stanno preparando un'eventuale offensiva in quest'area quindi molto più a sud quindi questi sono i rumors e vedremo più avanti cosa succederà nel frattempo la situazione a sud est è drammatica e lo vediamo da questi rapporti tra l'altro far ieri oggi gli ucraini hanno perso alcuni mezzi pesanti carri armati anche dei leopard che sono stati colpiti dai droni lanset questo oggetto qui russo non è il classico fpv ucraino che costa 4 soldi è comunque un oggetto che costa dai 20 ai 50 mila dollari però sicuramente può essere efficace contro carri armati pesanti come quelli che abbiamo fornito all'ucraina nel frattempo la loro offensiva continua e c'è stato un guadagno di territori proprio sempre qui nell'area di cura cove fra l'altro ecco fate caso a questo questi cambiamenti perché li vediamo non più procedere ad ampio raggio ma su direttive molto sottili vedete qui 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 e questa è una sorta di nuova tattica che i russi stanno utilizzando anche qui c'è questo rapporto presso sovnisca che porta a un mezzo distrutto in centro città questa cosa che vi sto dicendo avviene anche verso pocro scudete le linee di avanzamento russe sono molto sottili e questo perché cosa succede fra l'altro vi racconto anche una situazione oggi riportata qui a kupiansk guardate un po cosa succede in poche parole i russi mettono insieme 3 4 mezzi e li lanciano a tutta velocità sparati verso il centro abitato non si preoccupano di mine chi sopravvive quando arrivano nel centro abitato sganciano gli uomini e li disperdono questo è quello che succede e e questo crea scompiglio nelle forze ucraine che devono poi in poche parole bonificare l'aria nel frattempo vedete creano comunque una situazione dove sta eccolo questo è il mezzo di cui vi sto parlando questo è stato un assalto dove in mezzo ha percorso tutta questa strada a rotta di collo si è fermato in centro per poi essere distrutto successo ieri però cosa succede che i soldati riescono a sganciarsi a disperdersi comunque poi rimangono nei paraggi e creano difficoltà questo mette in crisi le forze ucraine e creano in qualche modo questi aggiornamenti che vediamo sulla mappa questa tattica fra l'altro l'abbiamo vista anche nell'area di kursk vedete c'è tutti questi sono assalti avvenuti con queste modalità a rotta di collo sulle strade incuranti delle perdite molti sostengono che questa tattica sia in realtà una sorta di risposta alla politica futura di trump in cui i russi pensano che l'ucraina riceverà più aiuti e quindi qualche modo vogliono mettere più pressione alla alla comunità internazionale passiamo oltre per chiudere notizie che riguardano il futuro caccia di sesta generazione italiano se vogliamo e questo realtà era una cosa che stavo seguendo già da tempo che non è mai stata messa in discussione ma comunque oggi c'è stato il via libera definitivo da parte dell'aula della camera con 215 sì e 43 no al disegno di legge di ratifica dell'esecuzione della convenzione sul global combat air program è un trattato trilaterale tra nazioni partner come italia regno unito e giappone che era già stato firmato in realtà questo per questo vi sto dicendo che non è mai stato messo in discussione perché era già stato firmato l'anno scorso il 14 dicembre a tokyo ora questo sarà un programma che metterà insieme le eccellenze globali in particolare la leonardo la bae system e la mitsubishi heavy industries cosa c'è di interessante beh sappiamo poco in realtà di questo caccia di futura generazione che sarà una partnership fra top gamma come si dice fra italia giappone e inghilterra le cose interessanti però che sappiamo già e che la mitsubishi heavy industries si è già portata avanti sul progetto ed è il progetto denominato fx questo non è il caccia reale almeno è un mock up una ricostruzione in grafica di questo progetto sarà chiaramente un caccia di sesta generazione un po sulla scia di quello che avviene in in campo americano col programma ng ad dove ci saranno tecnologie integrate e di controllo di una costellazione di droni che verranno utilizzati come esche per guadagnare consapevolezza situazionale con l'utilizzo dei sensori oppure per lanciare anche missili eventuali quindi sarà un mezzo pilotato che potrà pilotare altri droni più avanzati e coordinarsi con tutta una serie di elettronica molto complessa di guerra elettronica molto complessa e in operazioni congiunte lo vediamo un po in questo schema rappresentato in maniera molto semplice il progetto in realtà in giappone sta andando avanti da un po e ha anche dei presupposti per esempio sulla scia di questo che vi sto dicendo loro hanno già sviluppato l'x2 shin shin che sta per indicare la parola significa un po il cuore divino ecco come come terminologia come significato e loro hanno sviluppato questo aereo che ha fatto già alcuni voli di prova in risposta al programma f 22 americano dal momento che il giappone aveva chiesto l'acquisto delle f 22 poi come sappiamo gli stati uniti hanno deciso di non esportare le f 22 per motivi di segretezza della loro tecnologia ma comunque poi alla fine hanno ceduto su alcuni passaggi su alcune componenti a giappone ora vedremo cosa quindi in realtà il x2 che vediamo in questa immagine è un aereo che serve come banco di prova per il futuro programma x e da questo progetto si svilupperà poi di conseguenza il programma interforce con l'italia e l'inghilterra quindi da queste tecnologie vedremo nascere il nostro caccia di sesta generazione cosa ha in comune questo aereo con la locket martin e le f 22 le f 35 e l'euro fighter beh tante cose intanto partiamo col dire che già questo aeroplano che vediamo in questo in questa foto utilizza due cose importanti la prima vediamo degli ugelli vettoriali schermati eventualmente per le emissioni termiche questo è un mock up poi sappiamo che equipaggiato con il radar captor che è il top della tecnologia europea infatti questo è il radar di ultima generazione che montiamo sui nostri euro fighter e quanto di più avanzato c'è in europa l'esperienza della mitsubishi heavy industries in realtà ha già lavorato su un progetto molto importante che è le f2 questo è il mitsubishi f2 ora per chi mi segue da un po sa che questo aereo sembra proprio un f16 giusto la forma è quella beh in realtà si e no nel senso si sviluppa a partire dall f16 ma è diverso ed è sviluppato in giappone è sviluppato proprio per migliorare l'f16 è un aereo che rispetto al block 40 che per intenderci è quello che oggi hanno gli ucraini è più grande quindi in giallo vediamo il classico f16 in blu la sagoma dell'f2a quindi vediamo che la sezione frontale è più grande il musetto è più largo le ali hanno più superficie e anche i piani di coda sono più grandi questo aumenta l'autonomia e l'efficienza dell'aeroplano e non solo le prestazioni in generale e poi le differenze sono tante innanzitutto è stata rivoluzionata la struttura intera dell'aeroplano con l'inserimento di diverse parti in materiali compositi che come sappiamo sulla per quello che sappiamo proprio sul nostro euro fighter questi materiali sono responsabili di una riduzione della firma radar dell'aeroplano che lo rendono più stealth altre modifiche riguardano per esempio alcune introduzioni di soluzioni stealth sui bordi d'attacco delle ali anche questi responsabili della riduzione della propria firma radar il motore del bloc 40 è stato sostituito con quello del bloc 50 quindi è un motore più performante e anche più duraturo in termini di vita operativa è stato introdotto poi il paracadute frenante per atterraggi su strade piste corte come ce l'hanno per esempio anche gli f16 ucraini infatti questa soluzione è stata adottata anche sugli f16 norvegesi altre migliorie riguardano poi a livello strutturale ma comunque le cose più interessanti sono sicuramente il miglioramento aerodinamico in generale in termini di superficie i materiali compositi l'introduzione di tecnologie stealth e soprattutto ecco il radar l'avionica e quanto di più avanzato il giappone poteva mettere su questo aeroplano ok che non è non è una cosa insomma da niente infatti questa per esempio sono è la differenza fra l'f2a e l'f16 come vedete ci sono differenze importanti un po più grande l'f2a fra l'altro o ecco prima di parlare del radar un'altra cosa molto molto interessante che hanno fatto i giapponesi è stata quella di introdurre due piloni in più perché l'f16 in realtà ha giusto sei piloni per quanto riguarda le armi che non sono tanti voglio dire di conseguenza l'f2a può montare due piloni aggiuntivi per per esempio per armi antinave che poi fra l'altro anche qui i giapponesi ce ne sarebbe da parlarne a lungo i giapponesi hanno sviluppato le loro versioni del dei missili aria aria e aria terra quindi anche qui tecnologia giapponese lo stato dell'arte come dicevo la componente più importante dell'aeroplano in realtà è la n apg 77 questo radar qui che udite udite è preso direttamente dall'f22 quindi per questo vi dicevo che in realtà qualcosina dell'f22 alla fine giapponesi l'hanno ottenuta quindi la misubishi heavy industries ha già lavorato a partire questo aereo fra l'altro l'f2a è entrato in servizio nel 2008 è fresco come tecnologia è molto molto recente hanno lavorato già al radar dell'f22 questo radar a esa a scansione digitale che diciamo è inferiore solo al radar 84 del del dell'f35 voglio dire non c'è altra scusate apg 81 questo è il radar dell'f35 è semplicemente un po più aggiornato quello dell'f35 e ha un'apertura sintetica maggiore rispetto ai 120 gradi del dell'f22 però ecco questa evoluzione sull'f2a della tecnologia ci dà un'idea insomma che la strada intrapresa dalla misubishi e per lo sviluppo di questo prototipo è questa e qui infatti vediamo in questo prototipo alcune soluzioni che si vedono sull'f35 per esempio come le stive ventrali il bordo d'attacco delle prese d'aria la sezione frontale asimmetrica questo a tutto queste sono tutte soluzioni volte a una riduzione della rcs così come per esempio le impennaggi le derive inclinate e una linea pulita in generale nelle forme ovviamente questo è solo un prototipo dimostrativo per i voli la versione poi che vedremo più avanti sarà molto diversa e quindi è molto probabile vedere una soluzione di questo tipo alla fine come tecnologia e questa potrebbe essere la forma che dovremmo aspettarci per il caccia di sesta generazione italiano giapponese e inglese e per oggi è tutto quindi come sempre mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace anche a questo video due gesti importantissimi per aiutarmi ad andare avanti per indicizzare il video se poi volete proprio aiutarmi potete sempre abbonarvi fare una donazione insomma sotto al video trovate tutti i pulsantini per sostenermi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima